A Chioggia si sono uniti in una giornata di scambio e scoperta, una giornata di eccezionale importanza, studenti italiani e francesi dopo tre anni di scambio epistolari e videochiamate. A incontrarsi finalmente di persona sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado Pascoli e gli alluni del College Sidney-Becher, un momento atteso con impazienza che ha segnato un'occasione unica per entrambe le comunità scolastiche per approfondire legami già solidi e per esplorare nuove prospettive di collaborazione. L'incontro è stato reso ancora più speciale grazie al coinvolgimento di 28 alunni della classe quarta AT dell'Istituto per il Turismo Cestari, i quali, come guida esperta e competente, hanno accompagnato gli studenti nei luoghi più significativi di Chioggia, dai vicoli storici di Corte Taccheo alla suggestiva Casa delle Streghe, dalla vivace atmosfera della pescheria alla magica casa delle sirene. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di scoprire ogni angolo della città. Per celebrare l'arrivo dei loro amici d'Oltralpe, gli studenti della Pascoli hanno adobbato la scuola con manufatti di fattura francese, dipinti e bandiere, creando un'atmosfera accogliente e festosa. Al loro arrivo, i ragazzi del College Sidney-Becher sono stati accolti con entusiasmo e gioia da parte del dirigente Luigi Zennaro e degli studenti italiani, che hanno intonato canzoni di benvenuto sventolando bandiere tricolori italiane e francesi, simbolo di amicizia e unità tra le due nazioni. Il tour in centro storico è proseguito poi attraverso la maestosa Torre dell'Orologio, simbolo di antica grandezza e tradizione, per poi raggiungere infine Piazza Vigo. Uno dei momenti salienti della giornata è stato rappresentato dall'accoglienza nella sala consigliare del comune di Chioggia, dove gli studenti sono stati accolti con entusiasmo dal vice sindaco e assessore alla cultura Elena Zennaro. Un incontro che ha rappresentato un'occasione preziosa per gli studenti di immergersi nella cultura locale e di capire che le istituzioni sono da sempre al fianco degli studenti. L'atmosfera di gioia e amicizia ha permeato l'intera giornata, dimostrando il potere dell'incontro e dello scambio culturale nel promuovere la comprensione e l'amicizia tra le genti. Gli studenti hanno espresso la speranza che questa giornata possa essere solo l'inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione tra le due scuole e le due comunità. In conclusione, la balada a Chioggia ha segnato un capitolo importante nella storia dell'Istituto Comprensivo di Chioggia II, dimostrando che la cultura e l'amicizia possono superare qualsiasi confine. Il corpo insegnante che ha reso possibile questa giornata si augura che il suo ricordo resti per sempre nel cuore degli studenti, come un simbolo di unità, fratellanza e amore per la cultura e l'amicizia. Un ringraziamento speciale per l'importante lavoro fatto anche dietro le quinte va alle insegnanti di francese della Scuola Pascoli Cecilia Ghidotti e dell'Istituto di Istruzione Superiore Cestari, Erminia Vianello. Le Mille Una Notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio li trovi a prezzi da favola. Le Mille Una Notte di Elisa riposi bene e risparmi Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.